Avete mai visto come vengono preparati i carciofi alla giudia e al ristorante? Ve lo faccio vedere subito. Prima cosa dobbiamo pulire il nostro carciofo. Dopodiché mettiamo nell'olio di arraki di bollente. A metà cottura tiriamolo fuori e apriamo e rimettiamo di nuovo nell'olio bollente. Ora sai una cosa in più. A metà cottura tiriamolo fuori e al ristorante?